Non vedono la luce in fondo al tunnel, anche a Taranto domani. Molti tassisti aderiranno all'iniziativa nazionale di sciopero, incroceranno le braccia dalle 8 alle 22. La preoccupazione era cresciuta nelle ultime settimane in Italia a seguito delle linee di indirizzo nell'articolo 8 del DDL concorrenza che propongono di stravolgere il servizio pubblico del trasporto non di linea e stromettendo gli enti locali dalla competenza su tariffe contingenti e il compito di garantire un'efficace ed essenziale servizio taxi ed NCC. Le associazioni e le rappresentanze di categoria del comparto chiedono lo stralcio dell'articolo e la conclusione del percorso di riforma della 21-92 già avviato dal Parlamento nel febbraio 2019 e rimasto sospeso per quasi tre anni con la pubblicazione dei decreti attuativi previsti, il foglio di servizio, REN e disciplina per le applicazioni tecnologiche.